Forse quello che invece era ingiusto era impedire al Parlamento della Repubblica, Senato e Camera di poter intervenire come è accaduto lo scorso anno su un testo di legge, come importante, come una manovra finanziaria. Ovviamente ora è il tempo della costruzione politica di una sintesi per aiutare a migliorare una manovra di bilancio e finanziaria, ma l'anomalia non è che le Camere contribuiscono a segnare una manovra, l'anomalia era quella dell'anno scorso. Con molta franchezza non vedo tensioni nel rapporto tra il Governo e i suoi gruppi di maggioranza. La correzione che abbiamo apportato alla misura fondamentale dalla Plastic Tax alle auto aziendali alla Sugar Tax sono tutte azioni finalizzate a collegare le dinamiche ambientali alla crescita e allo sviluppo economico. L'emendamento che abbiamo proposto consiste in una riduzione iniziale dello 0,2 rispetto all'euro a chilo. Quindi c'è una riduzione del carico fiscale dello 0,2 e c'è una messa in sicurezza e quindi uno straggio relativamente all'incremento della pressione fiscale di tutto il sistema del riciclo. Aggiungo che ovviamente il pacchetto emendativo nel suo complesso mantiene i saldi invariati. La manovra doveva essere fatta in tempi molto rapidi, ci si è concentrati sui totaloni e su linee di indirizzo. Andando a approfondire ci sono le condizioni di migliorare quei provvedimenti. Tutta la polemica sulla manovra come manovra delle tasse è una grande bagianata. Alla fine è il 5% della manovra di tasse aggiuntive che sono tasse che sono di scopo e che hanno un indirizzo di ordine politico.